Ecco Una mia cliente è venuta, una mia cliente, un mio cliente, non lo sappiamo ancora è venuto come sempre, come ogni estrazione, viene a comprare una quota nella bacheca dei sistemi della Sisal e questa volta ha preso quella vincente Ma tu sai chi è? No, possiamo immaginare ma in realtà è difficile perché già che ha preso un sistema abbiamo selezionato un po' perché comunque non in tanti giocano nella bacheca dei sistemi ma in tantissimi e per quello che è difficile capire chi è Spero che stia festeggiando e che sia felicissimo di questa fortuna che gli è capitata Sono sicura perché noi non abbiamo clienti di passaggio, sono sicura che è un nostro cliente sono proprio sicura che è una persona che conosciamo E chi è la gente che frequenta questo bar? Ma io sono fortunata, ho veramente dei bei clienti, ho il bar da 23 anni e sono clienti che mi trasporto da anni quindi chi viene qua, viene qua quotidianamente Io voglio bene a tutti, no, no, io guarda, io darei un pochino a tutti, no ogni volta che gioco sono sempre lì che tipo per loro ogni volta che giocano parlano sempre in plurale in realtà perché no, no, voglio che vincono tutti perché sono tutte delle bellissime persone Grazie a Dio, grazie a qualsiasi cosa, cioè, no, no, lo meritano tutti Ma no, divertiti, divertiti, goditeli tutti è una fortuna che capita una volta, ma mai, non lo so, non capita una volta nella vita se li gode, se è giusto che sia Tu cosa ci faresti? Cosa? Con 4 milioni di euro? Ah, non lo so Mi fermo un attimo Abbraccio mio figlio E penso Non so, non lo so se è così una grande fortuna avere tanti soldi in tasca Hanno vinto 90 persone 90 persone e 90 famiglie Mi noto, non 4 Io ho fatto 4